Buon Natale Oggi Infostudio lo apriamo con un messaggio che proprio in occasione del Santo Natale l'Arcivescovo di Cosenza e Bisignano Monsignor Francesco Nole ha voluto inviare ai cittadini della sua diocesi ma non soltanto, sentiamolo Un Natale di serenità e di impegno nel quale ritrovare lo slancio per avvicinarsi agli altri in maniera definitiva Gli auguri dell'Arcivescovo di Cosenza e Bisignano Monsignor Francesco Nole richiamano allo spirito più autentico del Natale ed esortano a non perderne il significato più autentico, più vero che è la venuta di Dio tra gli uomini che poi tra gli uomini è rimasto Il presul è però anche esortato a sfruttare lo spirito natalizio per ritrovare un impegno che sia costante L'inizio di una vicinanza all'altro, chiunque esso sia, che diventi uno stile di vita, di condivisione, di partecipazione altrimenti ha detto lascia il tempo che trova Gloria a Dio e dobbiamo dare a Dio la gloria, la preghiera, l'onore, la lode e il ringraziamento perché non ci abbandona Ci vuol bene, ce l'ha dimostrato quando è venuto sulla terra ma è rimasto in mezzo a noi, è rimasto con noi La sua presenza più visibile, più vera è quella proprio nei poveri E poi pace agli uomini di buona volontà perché la pace passa attraverso di noi, le nostre coscienze, il nostro impegno E io devo dire che nella Dio ci si trova tanta solidarietà, tanto volontariato insieme anche a tante cose che bisognerebbe rivedere, riprendere, incentivare Però il bene lo si apprezza sempre poco e in questi momenti, in queste festività forse è quello che bisogna mettere in evidenza Per incoraggiare anche chi non lo fa ad essere felice proprio facendo il bene I valori che dobbiamo mettere in comune, in comunione, la solidarietà, la famiglia, la capacità di lavoro, di impegno La nostra tenacia, la nostra forza di volontà mette alla disposizione di tutti per il bene comune Io spero che se ciascuno faccia la sua parte saremo tutti più felici Tu che fai la luce in sogna Tu che angeli che voce annuncia Luce donna le menti Pace e lì Nel giorno di Natale vogliamo parlare anche di beni confiscati alla criminalità organizzata Che in Calabria sono numerosissimi, sono oltre 4.000 Ebbene c'è in atto una discussione, un confronto costruttivo e propositivo Perché ci si riesca a mettere insieme per avviare un percorso virtuoso di assegnazione dei beni in un primo momento Ma è destinazione all'uso sociale così come prevede la legge Ma anche poi di controllo sul fatto che questi beni vengano effettivamente riutilizzati Per come previsto al momento dell'assegnazione Ogni bene confiscato alla criminalità e restituito ai cittadini È un punto a favore dello Stato Una vittoria fortemente simbolica prima ancora che economica Una bandierina che lo Stato pone in territori spesso ad alta densità mafiosa Ecco perché il riutilizzo a fili sociali dei beni confiscati È uno degli obiettivi per cui si batte l'associazione libera I beni confiscati ormai sono davvero molti Sì al 21 maggio 2017 l'agenzia nazionale ne ha contati 4.271 nella sola Calabria Ma non sempre vengono riassegnati E allora Crotone e il coordinamento provinciale di Libera Il centro servizi volontariato Aurora Hanno organizzato insieme alla prefettura Un confronto con tutti i soggetti che possono chiederne l'utilizzo Per cercare insieme una soluzione La nostra idea è di creare un laboratorio Nel quale tutti mettono le loro idee Tutti progettano insieme agli altri In modo che questi beni non siano assegnati Più o meno intelligentemente a chi ne fa richiesta Ma magari per utilizzarlo poi una volta all'anno O per poco tempo Ma siano beni che abbiano uno scopo preciso Un utilizzo preciso che duri nel tempo E effettivamente dia un ritorno sociale Anche e soprattutto ai cittadini Che vedono che effettivamente La confisca poi segue un percorso Che la riporta a un utilizzo che è beneficio di tutti Dopo alcuni anni in cui c'è stato abbastanza fermento Dove sono state fatte diverse assegnazioni E tanti progetti di riutilizzo Negli ultimi 3 o 4 anni C'è un po' un blocco Nel senso che non sono state più fatte assegnazioni Non sono stati più fatti progetti per riutilizzare i beni E sappiamo benissimo che i beni confiscati Se rimangono confiscati ma solo sulla carta E poi non vengono riutilizzati È come se non fossero mai stati confiscati In provincia di Crotone i beni confiscati sono poco meno di 200 Con il 52% di assegnazione e riutilizzo Un buon segnale al quale però dovrebbe seguire Come nel resto d'Italia Un monitoraggio più attento sull'effettiva rispondenza All'uso del progetto originario A Crotone io ricordo ancora adesso Nel 2008 l'allora prefetto lanciò un'iniziativa Che chiamò progetto restituzio Convocando tutti i sindaci della provincia In cui i comuni erano presenti i beni confiscati Sollecitandoli ad assegnare questi beni A trovare un utilizzo a questi beni confiscati E i suoi successori proseguirono su questa strada Poi magari andrebbe fatto anche un controllo Sull'utilizzo che ne è stato fatto Su chi gli assegnatari se hanno utilizzato bene Meglio o meno bene questi beni Però il fatto è che questi beni sono stati assegnati Chi ha in gestione i beni confiscati Deve produrre delle reazioni ogni anno Dei bilanci E questi devono essere pubblici Bilanci che produce a chi gli ha affidato il bene Quindi nella maggior parte dei casi i comuni E di rimando i comuni devono relazionare All'Agenzia Nazionale i beni confiscati Sulla situazione generale all'interno del proprio comune Quindi in teoria dovrebbero esistere questi documenti Con le relazioni Nella realtà sappiamo benissimo Che queste relazioni sono pochissime a produrle E quindi di fatto per poter capire Se un bene è riutilizzato o meno Bisogna andare a cercarsi e a vedere E ora la grande bellezza del Parco Nazionale dell'Asila Che potrebbe essere candidato Lo si saprà nei primi giorni del nuovo anno Potrebbe essere candidato Dicevo a diventare patrimonio dell'UNESCO Quindi a essere inserito tra i beni considerati patrimonio dell'umanità Una candidatura che può essere perorata anche dai semplici cittadini Vediamo come nel nostro servizio Un grande obiettivo comune Inserire il Parco Nazionale dell'Asila nel patrimonio UNESCO La lista di luoghi o di beni culturali Considerati patrimonio dell'umanità Con il suo straordinario complesso di biodiversità di flora e fauna Il Parco ha avviato e sta completando Il lungo e complesso procedimento per la candidatura Come sito naturale scritto nella lista UNESCO La decisione sulla candidatura avverrà nei primi giorni del nuovo anno Ma l'intera comunità calabrese può sostenerla Fornendo le motivazioni per cui l'Asila dovrebbe diventare patrimonio dell'umanità Per intanto lo hanno fatto tra gli altri La Col di Retti, l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali E poi il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano Sosteniamo il Parco in questo riconoscimento Perché riteniamo che sia un posto incantevole Non solo dal punto di vista naturalistico Ma anche produttivo e del bosco Tant'è vero che l'Associazione Europea Della quale il Consiglio Nazionale fa parte Organizzerà qui nel settembre del 2018 Il prossimo congresso della categoria Proprio a sostenere questa iniziativa E a dire che le attività economiche Che si trovano all'interno del Parco Devono essere potenziate E grazie ad attività e a iniziative Come quella del riconoscimento dell'UNESCO Sono certamente, sono convintissima Che saranno iniziative che possono rilanciare Non solo le bellezze naturalistiche Ma anche la presenza di giovani E di attività economiche Che rendono questo posto incantevole Il Parco Nazionale è caratterizzato Da una presenza agricola importante Del resto sia la produzione della patata della Sila Sia gli allevamenti che ci sono Oppure eccellenze come il Cacciocavallo Silano Penso che siano anche delle emergenze Che in qualche modo danno lustro a un parco Che non è semplicemente un parco naturale Ma è un parco anche attivo Un parco che comunque produce Un parco che comunque ha una sua attività Insomma stiamo parlando di una complessità Che va per forza rivalutata Va per forza messa all'attenzione Diciamo mondiale Visto che stiamo parlando dell'UNESCO E credo che questo sia un punto fondamentale Ecco perché col diretti in questo connubio ci crede Proprio grazie all'ente parco nazionale della Sila Nel 2016 entriamo nella gestione Nella valorizzazione di una delle riserve Più protette della Calabria Anche di una delle più importanti Che è appunto la riserva biogenetica naturale di Fallisso Nota a tutti come i giganti della Sila Riserva che tra l'altro diventa una delle leve principali Di questa nuova candidatura ad essere sito UNESCO E quindi non potevamo non contribuire Non insomma dare il nostro segnale In modo energico e fattivo Attraverso la sottoscrizione di una lettera di supporto Con il quale accompagniamo questa candidatura Alla campagna Insieme per l'UNESCO Si può contribuire partecipando agli incontri In programma nei comuni del parco Inviando un video o una foto con l'hashtag Insieme per l'UNESCO Raccontando con le proprie parole o con un'immagine Ciò che la Sila rappresenta E le ragioni per cui è giusto considerarla Patrimonio dell'umanità Basta inviare il proprio contributo All'indirizzo mail silastorytelling.gmail.com O sulla pagina Facebook Sila Sharing Festival Oppure ancora al sito www.silasharingfestival.it Il Consiglio regionale della Calabria Ha approvato la legge Conosciuta come Calabria Golf Destination Quindi potranno partire presto Le procedure per la realizzazione Di cinque diversi campi da golf Nelle cinque province calabresi Un'occasione per chi ovviamente Ha perorato questa causa Per legare la pratica di questo sport al turismo E destagionalizzare il turismo appunto in Calabria La Calabria ha la sua legge sul golf Dopo un lungo e tortuoso iter burocratico È passata in Consiglio regionale La legge misure per promuovere il turismo sportivo Mediante la diffusione del gioco del golf E la realizzazione di impianti golfistici Conosciuta altrimenti come Calabria Golf Destination La Calabria ha sempre affermato Il Consigliere regionale Orlandino Greco Ha tutte le peculiarità ambientali e paesaggistiche Per garantire tutto l'anno la pratica di questo sport E i requisiti ottimali per diventare punto di riferimento Per l'intera area del Mediterraneo Golf e turismo è un binomio che rappresenta un'opportunità Per destagionalizzare l'offerta turistica In un territorio vivibile 365 giorni l'anno Dei 25 milioni di golfisti indirizzati verso le destinazioni storiche Afferma Greco Ben il 32% ha cancellato dal proprio itinerario Mette come la Turchia, l'Egitto e la Tunisia Per i noti problemi geopolitici Se la Calabria fosse stata già pronta La stima delle presenze sarebbe stata ben oltre Le 300.000 ipotizzate sul masterplan allegato alla legge Tra l'altro il golf ha un giro d'affari Di circa 70 miliardi di euro all'anno Con oltre 90 milioni di giocatori Professionisti e turisti sportivi Che spendono in media 4 volte di più di un turista classico E che legano la scelta dei posti in cui andare Proprio alla presenza degli impianti golfistici Ragion per cui, secondo Greco La presenza di campi da golf Riuscirebbe ad incrementare il prodotto interno lordo della Calabria Creando sviluppo e generando nuova occupazione Sfruttando i campi come infrastrutture principali Di un sistema economico in grado di valorizzare Tutte le straordinarie potenzialità ambientali Paesaggistiche, storiche, climatiche, culturali E no gastronomiche di cui questa regione è ricca Il progetto mira la costituzione di 5 campi da golf In tutta la regione, uno per provincia Da 18, 27 e 36 buche Che saranno realizzate in prossimità di località Ad alta attrattiva turistica Tutto a costo zero per la regione Perché gli oneri finanziari sono interamente sostenuti Da investitori privati In chiusura vi ricordo il concerto di beneficenza Che si terrà martedì 27 dicembre a Cittanova Con la voce magica di Antonella Ruggero Si intitola i regali di Natale I proventi saranno devoluti per garantire 200 pasti Ad altrettante persone che ne hanno bisogno Attraverso la Caritas Cittadina 500 buoni pasto per la mensa scolastica A bambini e ragazzini delle scuole elementari e medie Le cui famiglie si trovano in difficoltà economica Questo invece verrà attuato attraverso i dirigenti Degli istituti scolastici locali Vi ricordo infine La intervista esclusiva Che il nostro direttore Massimo Tiganissava Ha realizzato con Matteo Salvini Leader della Lega Sui temi del sud della Calabria Andrà in onda quest'oggi alle 19.50 Per noi è tutto Grazie per essere stati con noi E auguri di un sereno Natale Grazie per la visione